Ogni giorno è un'occasione per avvicinarsi ai tuoi obiettivi e vivere la vita che hai sempre voluto. Se poni i tuoi obiettivi ad un livello notevolmente alto e poi fallisci, fallirai al di sopra dei piccoli successi di tutti gli altri. James Cameron. Smetti di farti distrarre da cose che non hanno niente a che fare con i tuoi obiettivi. Se pensi che la giornata non abbia sufficienti ore per raggiungere i tuoi obiettivi, allora la mattina alzati prima. Vedere i tuoi obiettivi, scritti da te a mano, ha un potente effetto sulla tua mente. Un centimetro verso il tuo obiettivo darà più risultati di un chilometro di buone intenzioni. Steve Maraboli. Le persone con dei precisi obiettivi hanno successo perché sanno dove stanno andando. Earl Nightingale. Non aspettare di raggiungere il tuo obiettivo per essere fiero di te stesso. Sii fiero ogni passo che compi verso il raggiungimento del risultato finale. Pianificando correttamente il nostro obiettivo, siamo già a metà strada per raggiungerlo. Zig Ziglar. Fissare degli obiettivi è il primo passo per trasformare l'invisibile nel visibile. Tony Robbins. Fissare degli obiettivi.